Lui? Eh ma perché poi dipende un po' dal tracciato... Hai capito? Hai dentro un po' di variabili? Hai piantato dentro dei lateraloni? Che figa! Come cazzo ho fatto? Però lì magari per alcuni punti dava meglio lui di me Quindi lì ho avuto paura, tra lì Lì era fattibile